Match che ricomincia! Vanno a caccia del pareggio! Corsiere che ci arriva tranquillo! Un solo uomo da battere! Risultato che cambia! 3 a 1! Si torna a giocare! E' il gol! Squadra è di nuovo in capo! Cercano il barco giusto! Chi la spulterà? Romano in gol! Si ricomincia! Ferma tutto! Carriere! C'era! C'era! Amici della capitale, fatemi sentire! Ha evitato il peggio qui con un grande intervento! Un solo uomo da battere! Si rifanno sotto! Palla al centro, si ricomincia! Risultato di 4 a 3! E' eccezionale qui l'intervento del portiere! E' eccezionale qui l'intervento del portiere! Un minuto al termine del match! Contra banda! Questa blocca! Trovano la rete di 5 a 3! Squadra è di nuovo in capo! Questa blocca! Trovano la rete del 5 a 3! Finale, tutto da vivere, hanno un solo gol da recuperare ora Intervento provvidenziale del portiere che salva il risultato Riusciranno a pareggiarla in questi ultimi trenta secondi? Parato fondamentale che li tiene in partita! Dieci, nove, otto, pareggio accettato per i capelli! Pareggiano nei minuti finali, chi la spunterà ora? Finisce qui, ci sarà l'extra time!